vi insegnerò da zero come creare una clip emozionale anche se siete veramente a zero se non sapete niente ciao a tutti e benvenuti qua nel canale di vigenet oggi il primo di una serie di video che ho deciso di portare nel canale per aiutare tutti coloro che vogliono fare editing partendo da zero e imparando tante cose facilissime con un programma che credo sia il migliore in circolazione in qualità costo e prestazioni sto parlando di filmora 13 disponibile sia ios che windows e questa versione va a aumentare tante novità legate all'eai all'intelligenza artificiale e ve le porterò in questa serie di video che farò 3 4 5 video proprio in una serie editing video perché mi piace proprio raccontare e spiegare come creare editing come fare editing e oggi iniziamo proprio il primo video della mia serie e lo faremo usando delle clip realizzate con che cosa ovviamente con i miei droni e vi basterà installare filmora vi lascerò sotto in descrizione tutti i riferimenti per andarvelo a scaricare vi ricordo che lo potrete fare tranquillamente è gratuito inizialmente potete provarlo testarlo e oggi ve lo spiego ovviamente ma prima di iniziare vi chiedo ovviamente un contributo al canale visti i miei sforzi per cercare di dare un aiuto un like ma soprattutto una condivisione e un iscrizione al canale se ancora non lo avete fatto saresti benvenuti si mette la segretta di bighe e si inizia perché sarà un video lungo ma spero funzionale per chiunque bene ho fatto un'introduzione bella lunga da un paio di minuti però era fondamentale dunque non mi addentro ancora perché il video sarà lunghissimo e partiremo proprio da zero dall'inserimento dall'installazione della app fino alla realizzazione del video finale con suoni transizioni musica velocizzazione delle clip tagli insomma di tutto e vi farò vedere quanto è incredibile e facile questo strumento quando avrete finito di vedere il video state tranquilli lo installate e sarete in grado di mettere insieme delle clip come ho fatto io in modo semplice dunque mettiamoci subito all'opera e vi faccio vedere passo passo un video l'ho detto molto lungo ma con piacere che lo metto in piedi si inizia iniziamo se siete totalmente all'inizio a digiuno beh per andare a usare filmora dobbiamo andare su filmora punto wondershare punto net vi riconoscerà la lingua voi registratevi fate log e andiamo a scaricare il nostro file e ovviamente facendo doppio clic andiamo ad installare il nostro filmora bene dunque installato il sistema siamo pronti a realizzare il nostro contenuto andiamo sul nuovo progetto direttamente qui ci sono diverse funzioni ma noi facciamo in questo video la veramente le cose più semplici possibile andiamo sul nuovo progetto e questa è la nostra interfaccia del nostro sistema un sistema che per giusto per capire e per spiegare ai proprio ai principianti abbiamo qua la timeline dove ci sarà la traccia video e la traccia audio che vedremo in questo mio contenuto per iniziare a lavorare ovviamente dobbiamo avere dei file che abbiamo registrato con la nostra videocamera o il nostro drone io in questo caso userò il mio e alcuni filmati realizzati col mio drone e andiamo nella tab file multimediali in porta e andiamo a aprire una serie magari di contenuti realizzati con il drone apriamone alcuni se andiamo a prendere per esempio questo andiamo a prendere questo andiamo a prendere questo io sto selezionando il file contemporaneamente ma possiamo farlo anche uno ovviamente alla volta ho in questo caso usato il tasto command premendo sui vari file e mi ha selezionato più file e come vedete non entriamo in merito diciamogli di sì e lui di fatto cosa fa ci genera queste ci mette all'interno di questa area file multimediale i nostri file io defy che ho girato personalmente in alcune città italiane e l'esempio che porto in questo video e vediamo adesso come si procede per realizzare un nostro una nostra piccola clip e ovviamente noi la faremo breve ma questo che vedrete potrete realizzarlo in video sia brevi ma anche ovviamente lunghi vedete sta creando come vedete l'importazione dei dei file e mentre lui sta finendo di importare questi file vi faccio vedere alcune piccole cose quassù abbiamo delle tab che riguardano ovviamente il degli stock media che sono tutta una serie di video che possiamo utilizzare direttamente nei nostri video ovviamente mi sta facendo vedere quelli di tendenza ma abbiamo delle del colore sfumato degli sfondi delle intro e quant'altro è proprio con una intro faremo vi farò vedere come si inizia dunque vi spostate dentro stock media e andate sulla voce intro e vedete ci sono tutta una serie di piccole introduzioni se andiamo a cliccare qua che è l'anteprima del video ci fa vedere esattamente quello che contiene il file vedete lui fa questo piccolo download e ci praticamente ci genera un inizio del video ovviamente non è un qualcosa di bellissimo però ci sono delle volte in cui può essere utile dunque giusto per farvelo vedere mettiamo che io scelgo il conto alla rovescia lo prendo lo trascino vedete nella timeline lascio e me lo porta nella timeline e in questa posizione andando a cliccare su play ecco che mi fa questo piccolo conto alla rovescia a questo punto posso tornare su file multimediali e che mi sta vedete sta finendo di renderizzare a questo punto possiamo iniziare per esempio con la prima clip eccola la prima clip che è firenze stessa cosa la trasciniamo direttamente nella timeline questo è vedete è una clip realizzata al duomo a firenze perfetto allora facciamo che vedete qui inizia molto piano per cui facciamolo iniziare nel momento in cui il drone va già indietro e cosa facciamo ci posizioniamo nel punto in cui la clip deve avere inizio clicchiamo su taglia e vedete divide in due la clip stessa andando qua sopra e pigiando il tasto cancella sulla tastiera oppure faccio vedere con questo tasto si torna indietro se sbagliamo andiamo sopra tasto destro elimina e eliminiamo la nostra clip a questo punto abbiamo una clip ok pronta mettiamo e la voglio finire qua stessa cosa taglia elimina o viceversa posso andare a cliccare sul cestino ci sono vari modi per eliminarli ma vi faccio vedere un'altra cosa annullo annullo e posso andare vedete sulla parte finale mi appare questa piccola freccia così vedete io ci ricco la sposto e la porto nel punto in cui voglio che il file finisca un'altra piccola cosa che vi faccio vedere che potrebbe tornarvi molto utile quando usato un drone è che questa immagine vedete è un po fa un po un balzo però magari molto lenta e le immagini vedete questa immagine sta andando da 4 e 23 e arriva a 32 dunque è un'immagine abbastanza lunga se clicchiamo all'interno della nostra clip e andiamo a cliccare su questa piccola icona vedete lui mi fa vedere quanto dura questa clip se io la voglio ridurre e dal 27 la voglio portare a 20 mi dico salva vedete mi riduce la mia clip eccola qua ok dunque abbiamo i cinque secondi del dell'inizio e la clip che dura 20 secondi e andando avanti vedete la clip è molto molto lenta dunque posso andare a velocizzare anche direttamente da qui mettiamola a 2x per cui mi velocizza due volte cioè praticamente mi riduce per la metà il tempo della riproduzione e andiamocela vedere eccola qua vedete praticamente la riproduzione è più veloce e di conseguenza ho una ripresa più fluida e più godibile se non ci basta possiamo anche andare su questa su questa piccola barrettina qua a sinistra e posso andare vedete 238 242 a ridurre ancora mettiamo io metto 251 per cui ancora più veloce per cui eccola qua vedete mi velocizza la mia clip e a questo punto la clip è perfetta dunque posso andare avanti ma adesso prima di mettere altre clip all'interno della mia delle mie impostazioni cosa devo fare beh la cosa che faccio sempre e assolutamente è quella di andare a mettere una traccia audio perché è sulla traccia audio che andremo a lavorare ovviamente sul su tutto quello che è la timeline e su tutto quello che è la nostra composizione dunque mi raccomando prima clip video noi abbiamo messo giusto per demo anche un piccolo punto alla rovescia ma dobbiamo una volta messa la prima clip andare a inserire la musica dunque andiamo a cliccare su audio e su audio abbiamo tutta una serie di come vedete di musiche vedi suoni esempio una tastiera esempio l'otturatore di una macchina fotografica ok ci sono una serie di suoni mettiamo e ve lo faccio vedere dopo che io voglio cercare un un suono specifico ecco che lo posso cercare da qui ma volendo potrei anche andare a cercare proprio musica musica specifica ok ci sono tutta una serie di di musiche ovviamente posso andare a cercare quella che più mi piace io devo andare a cercare un qualcosa di di molto lento e qui esempio cupa e romantica potrebbe essere il caso nostro e per esempio andiamo a vedere ascoltare ok se la musica mi piace vado direttamente qua mi faccio download e cosa faccio vado a prenderla come al solito la trascino sotto la timeline come vedete la musica innanzitutto inizia un po in ritardo ma vedete da qua eccola inizia da qui io la vorrei far iniziare direttamente subito all'inizio del video come facciamo come abbiamo fatto per il video o tagliamo qua la clip ok la tagliamo e andiamo a eliminarci la nostra clip e la spostiamo oppure la facciamo alla riduzione dunque adesso partirà immediatamente esempio se io voglio iniziare da qui direttamente sul video e qua non voglio mettere niente posso ritornare su effetto sonoro gli posso dire che andiamo a muovi per esempio oppure ok potrei mettere un suono come faccio a mettere un suono innanzitutto andiamo a vedere mettiamo questo lo mettiamo qua ok lo trasciniamo sotto e come vedete crea una nuova una nuova clip se andiamo ad ascoltare guardate ok questo è già un inizio interessante per cui come state vedendo stiamo lavorando su una diciamo su un progetto e ci divertiamo a farlo crescere con le nostre mani ma mentre questo andremo avanti in questa composizione artistica perché mi piace chiamarla così voglio raccontarvi anche un'altra cosa sull'audio volendo potete anche inserire voi un vostro file audio e come lo inserite semplicemente tornando sui file multimediali andando su import a file e andiamo a crearci un a cercarci una nostra un nostro file audio che più ci piace io ne ho un pochi cinematic brillanti vedete blog mp3 per esempio potrei usare un qualcosa di cinematico per esempio mi fa ovviamente l'anteprima mettiamo questa è quella che mi piace gli dico apri e attenzione me la importa qua sopra io potrei in teoria cliccando su questa icona non togliere la traccia perché magari me la voglio lasciare per capire quale poi mi piacerà di più per cui la freddo come si può dire la silenzio ancora meglio prendo la traccia che mi sono importato della mia libreria e la importo in un nuovo sempre nel timeline vedete ho tre tracce audio mi sposto quindi ho alzato un po' il volume mi sposto un po' un po' più sulla destra anzi facciamo così riduco un po' questo e la trasbordo all'inizio del video adesso andiamo a sentirla ok ok questa è magari la musica che mi interessa vedete è all'interno dei file multimediali ma adesso tra questo e questo vedete entra un nero diretto e noi cosa facciamo andiamo ad introdurre le transizioni eccolo qua transizioni e abbiamo tutta una serie di transizioni da poter usare direttamente nel nostro nella nostra timeline che vanno a inserirsi tra le varie tra le clip io vi consiglio di non abbondare in transizioni ma per esempio in questi casi qui questo è un caso molto interessante perché è un effetto particolare per cui possiamo andare a a vederci a cercarci un effetto magari sfumato o un effetto molto molto particolare infatti se andiamo ad esempio prendere un effetto e trascinarlo vedete tra le due clip vediamo cosa succede non mi piace dunque vado sopra premo cancella e lo elimino torno su transizioni vado a dirgli esempio dissolvenza e vado a cercarmi un effetto dissolvenza magari che potrebbe essere interessante anche se dal nero non è semplice andiamo a tracciare e a trascinare questa tra le due clip potrebbe essere però ce ne sono di tantissime dunque potreste andarvi a cercare delle dissolvenze particolari che magari vi possono piacere di più che ne so andiamo a provare un'altra andiamo sopra e la sostituisce direttamente da sopra mi piace meno per cui annulla e mi riporto alla dissolvenza ok questa è la dissolvenza che ci serve a noi un'altra cosa che vi faccio vedere è questa noi dobbiamo andare poi a questo punto a a inserire magari un tornando su audio e andando su suoni e mettiamo magari vento forte ok cerchiamo un un audio che mi mi porti un suono del del vento andiamo a cercare qualcosa sentiamo un po magari questo potrebbe essere vi faccio sentire se vado a importarlo qua dentro vediamo l'effetto che ci fa ok ok abbiamo di fatto creato un un effetto all'interno del nostro video per cui abbiamo messo una traccia video una dissolvenza una nostra musica e poi abbiamo anche inserito un effetto audio un effetto audio che da un po il senso al a questo punto beh semplicemente andiamo a inserire la seconda nostra clip la seconda nostra clip che potrebbe passare da firenze a roma per cui passiamo al colosseo e vi faccio vedere una piccola cosa che lo vedremo in un mio prossimo tutorial che vi porterò nel canale nei prossimi giorni perché ritengo interessantissimo l'uso di riprese in d log cioè nel formato nativo vedete questa immagine non ha non ha colore è piatta come si dice in gergo e cosa cosa significa significa che ci permette in post produzione di andarla a lavorare usando una color correction ma anche delle lutte e nel prossimo contenuto che vedremo qua nel canale la settimana prossima io ho già pronto un contenuto interessante per farvi capire come usando questo programma che è veramente un programma pazzesco riuscite a colorare le immagini a filtrare le immagini a cambiare totalmente la forza di quello che è il colore delle tonalità delle vostre clip registrate in questo sistema e gli ultimi droni DJI hanno questa modalità di registrazione dunque io vado a portare questa immagine eccola qui ok andiamo a fare la stessa cosa andiamo a ridurre la clip partiamola da qui andiamo a muoverla come abbiamo fatto esattamente prima ok eccola qua perfetto vedete eccola qui a questo punto andiamo un po' a velocizzarla usando questo diciamogli 2x e questa è la clip del colosseo ma noi come abbiamo appena detto abbiamo l'esigenza di fare decisamente due cose la prima è quella di dargli un colore per cui per dargli un colore noi possiamo andare a usare o la sezione effetti ok oppure possiamo andare a fare doppio clic all'interno della nostra clip andiamo su colore e andiamo a ci sono già dei colori predisposti che ci vanno vedete a a proprio a colorare la nostra clip noi li diamo nessuno perché vi faccio vedere qua possiamo andare ad inserire delle lutte già pronte e lo vedremo in un secondo video che vi spiegherò ovviamente come funziona ma posso andare anche a lavorare proprio direttamente sulla mia sull'esposizione per cui io in questo caso posso andare a sistemare la i colori posso andare a sistemare il contrasto posso andare a lavorare sulle ombre e posso andare a fare poi tutta una serie di modifiche all'interno della mia clip a questo punto vi rimando al prossimo video dunque seguitemi e passiamo direttamente all'immagine che io ho già lavorato ecco io ho lavorato l'immagine mi piaceva tirar fuori questo verde perché mi piace proprio tirar fuori questo verde e ecco che la nostra immagine vedete ha preso colore e ve lo ripeto lo vedremo nel prossimo video a questo punto beh cosa dobbiamo fare ascoltate la musica noi dobbiamo andare a fare i cambi dove cambia la musica in questo caso la musica è molto calma però dove ci sono i picchi dobbiamo andare a cambiare le varie scene io voglio cambiare qua per cui cosa faccio o taglio o velocizzo un altro po' la mia scena ok per cui ascoltate sentito con il cambio quando fa boom lui cambia l'immagine ok sentito cambia ancora qui per cui questa la rallento un po' come la rallento la prendo direttamente da qui e la trascino direttamente sul mio sul mio cambio e vado a cercarmi un'altra immagine dunque abbiamo realizzato questo movimento e non inseriamo transizioni volendo potremmo inserire delle transizioni tra queste due ma vi consiglio di usare soprattutto i tagli ma abbiamo usato sony vi faccio vedere tranquillamente adesso come andare a inserire un solo particolare cioè andiamo a cercarci un'immagine di un volo che io ho fatto in piazza Navona a Roma dove c'erano dei gabbiani bene andiamo a prenderci un file apri sì e questo è un file vedete ancora log andiamo a trascinarlo andiamo a trascinarlo vedete qui ha questa apertura ma guardate cosa succede qua vedete arrivano dei gabbiani per cui noi cosa facciamo ci mettiamo in questo punto per cui tagliamo cancelliamo ok la riduciamo fino qua la velocizziamo un pochino perché cosa succede se la velocizziamo troppo il volo degli uccelli è molto molto innaturale per cui andiamo a dargli qui normale anzi andiamo a dargli qui 2 allunghiamolo un po' e vediamo che effetto fanno questi gabbiani vedete ok per cui cosa succede possiamo eventualmente anche farla iniziare un po' più da qua come facciamo o riduciamo o tagliamo ok tagliamo qua eccolo qua e ce l'attacca ok questo è l'effetto con il cambio ok magari questa la potremmo mettere anche tutta no e ci fermiamo qui per cui possiamo magari anche allungarla aumentarla un poco velocizzarla un po' meno tipo così qui c'è il cambio ok per cui possiamo anche andare a aumentare un altro poco l'avvio noi dobbiamo portarla qui ok per cui andiamo a 1 e 30 ovviamente dobbiamo andare sempre a fare la color io vi cambio direttamente la color andiamo a sentire attenzione quando andiamo a velocizzare perché se ci sono persone che si muovono ovviamente ecco che arriva sentito cambio ok ora noi qua dobbiamo andare a inserire un suono dei gabbiani cerchiamo negli effetti audio negli effetti audio gabbiano vediamo se nell'effetto sonoro ci trova molto peggio questi potrebbero essere dei suoni giusti per per noi ok noi proviamo a prendere questo e trasciniamolo qua ok nel punto in cui arrivano i gabbiani eh e andiamo a sentire l'effetto l'effetto non arriva per cui noi andiamo a alzare decisamente il volume andiamo bene 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 andiamo facciamolo iniziare un po' prima andiamo a chiuderlo qua e a questo punto abbiamo l'effetto che vogliamo ok a questo punto beh possiamo andare tranquillamente a inserire le altre clip che vogliamo che vogliamo gestire ok dunque passiamo a delle clip successive che potrebbe essere per esempio l'arrivo di un tramonto andiamo a trascinarlo tranquillamente eccolo qua vedete che questo è molto interessante qui è un'immagine del Duomo di Siena che stiamo scappando via vedete qui praticamente si ferma per cui andiamo a eh innanzitutto a portarla in questo punto qua ma adesso vi faccio vedere un'altra funzione magari facciamo che a noi ci piace più questo cioè andare incontro e non scappare come facciamo prima cosa dobbiamo essere certi che non ci siano macchine in movimento persone che camminano perché se no vediamo che tutto diventa eh brutto perché macchine vanno all'indietro può succedere ma persone vanno all'indietro non può succedere dunque andiamo in questa posizione andiamo su questa voce inverti e ecco cosa succede guardate pronti ok stiamo invertendo l'immagine ovvero abbiamo fatto l'opposto io con il drone sono venuto indietro invece lo faccio andare avanti esatto avete sentito dove cambia la musica ok pronti cambia qua per cui io posso ovviamente velocizzarla un pochino e portarla qui potevo anche tagliarla ok e a questo punto posso passare una scena successiva che potrebbe essere siamo verso il tramonto chi non la conosce la piazza del campo eccola qua mi metto nel punto in cui voglio iniziare taglio che anzi è un po' più qua taglio elimino eccolo qui e questo è l'effetto ok per cui questa è la musica pronti ci fermiamo è perfetto per noi ci fermiamo qua dunque andiamo a chiudere qui e chiudiamo questa questo questo video con l'ultima clip che andiamo a inserirla una clip ancora più emozionale perché è già buio vedete eccolo qui ci mettiamo in un punto interessante del frame un frame interessante di partenza eccolo qua andiamo a velocizzarlo un po' andandoci a portare una velocità diciamo di di un 2x e vi faccio vedere qual è l'effetto ok per farvi capire quanto possiamo con mettendo immagini gestendo suoni e gestendo cambi di suoni e velocità creare un qualcosa di davvero spettacolare in modo banale qui ci sta proprio non cambia ovviamente ok ci possiamo fermare qui chiudere e a questo punto possiamo andare a abbassare ovviamente chiudere la nostra clip come lo facciamo lo facciamo semplicemente andando sulla nostra traccia audio tasto destro regola audio ok e dobbiamo andare a dirgli praticamente quali sono le dissolvenze noi innanzitutto tagliamo questo audio nel punto in cui finisce eliminiamo quello riguarda la parte che ci interessa ovviamente ci ha tolto il sul display ma noi ritorniamo su regola audio e dove andiamo andiamo a dirgli dissolvenza ovviamente in entrata vedete il bilanciamento auto dobbiamo andare a chiudere noi e dobbiamo andare a dissolvere in uscita eccola qua vedete vedete questa funzione io posso poi da qua anche gestirla e l'effetto è questo ma vi voglio far vedere un'altra cosa se noi prima di chiudere video lunghissimo ma spero che lo possiate condividere salvare nei preferiti e iniziare a seguirmi se io vado qua ritorno su velocità e gli dico innanzitutto velocità uniforme gli dico normale me la riporta normale guardate se noi andiamo avanti qui c'è un cambio veloce se io mi metto qua ok se mi metto qua vado qua e gli dico speed ramping ok e lo speed ramping potrebbe essere questo è qua ok per cui qua deve essere il punto di picco e faccio questo vediamo un po' aumenta piano piano aumenta 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 non va bene lo devo spostare ancora di più e lo voglio voglio che sia molto più repentino il cambio ok andiamocelo a vedere ancora andiamoci sul punto vediamo che sul punto sia esattamente dove parte vediamo un po' va bene noi ce lo portiamo qui andiamo a cercarsi molto più veloce è una questione di pazienza enorme però vedete faccio un bel picco eccolo abbiamo ottenuto ora potrei in teoria qua lasciarlo più veloce per cui potrei fermarlo a due perre perché questa è la velocità vedete e portarlo piano piano a a scemare fino a uno e mezzo vediamo un po' 1 e 6 vediamo un po' qual è l'effetto bene e a noi a questo punto ci basta perché noi andiamo sul punto di fine tagliamo e eliminiamo la nostra clip abbiamo abbiamo il nostro video finito non ci resta che andarlo a questo punto a esportare l'ultima cosa ci resta da fare vedete la traccia questa qui è come vedete rimasta lunga per cui lui anche se non è visibile la porta fa il rendering fino a qua per cui noi questa comunque la tagliamo e così siamo sicuri di poter andare a fare il rendering andiamo semplicemente su esporta e da qui ci propone tutta una serie di impostazioni ovviamente 1920x1080 mettiamo a 25 frame o 30 ci fa scegliere se lo vogliamo move o mp4 avi eccetera eccetera ci dice dove andare a fare la nostra esportazione noi andiamo in una cartella del nostro disco e andiamo a di fatto esportare il tutto possiamo anche già esportare pronti su youtube tiktok vimeo eccetera qualità gli diciamo migliore massima come volete ok e gli diamo esporta e lui inizia a farci l'esportazione del nostro video vedete sta lavorando per l'esportazione del video bene ha finito ovviamente io ho lasciato il nome che mi proponeva ma potevo cambiare il nome andiamo ad aprire la cartella eccola qua e andiamocelo a vedere finito go Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se non sapete come trovare la musica, lo faremo direttamente con Filmora nei prossimi tutorial. Ne spero di pubblicare almeno una settimana per le prossime 3-4 settimane. Dunque non vi resta di seguirmi. Ci si vede alla prossima. Un abbraccio dai bighe.